Finalmente, dopo una lunga prassi, siamo riusciti ad ottenere il progetto esecutivo del Natale delle Meraviglie 2019, finanziato dalla Regione Campania, oltre alle delibere di altri eventi correlati allo stesso, a farlo sapere attraverso un comunicato stampa e il gruppo di cittadinanza attiva Cittadini 5 Stelle Agropoli. La finalità era quella di verificare, carte alla mano, se i risultati prospettati dal progetto fossero realmente in linea con l'impatto reale che ha avuto la manifestazione. Ecco alcune nostre considerazioni, fanno sapere i 5 Stelle. Il progetto finanziato riguarda solamente le spese per le luminarie natalizie, il concerto del primo gennaio e le spese di comunicazione. Escluse dal finanziamento regionale, sono state organizzate almeno altre due importanti eventi, Agropoli M'Illumino di Natale e il Castello Incantato, oltre ad altri microeventi organizzati. Tra le location in che verrebbero coinvolte, secondo il progetto, oltre al borgo antico e il castello, c'è la fornace e il palazzo civico delle arti, sì la fornace chiusa e abbandonata da tempo. Il progetto sulla carta aveva come prima finalità quella di far diventare Agropoli capitale campana di scambi artistico-culturali con le nuove realtà europee, quindi ospitare artisti di provenienza dai vari stati europei. La seconda finalità era quella di attrarre flussi turistici importanti, anche in un periodo dell'anno di scarsa affluenza per la città di Agropoli. Vediamo quali erano le stime preventivate, sottolineano i 5 Stelle. Le stime degli organizzatori per le attività si attestano sulle 30.000 presenze nei diversi eventi in programma, con un incremento dell'8% dei soggiorni turistici rispetto allo stesso periodo 2018. Personalmente, da quanto abbiamo appreso interpellando le due realtà associative degli operatori turistici agropolesi, l'incremento turistico rispetto all'anno precedente è stato intorno allo 0%. Inoltre, le presenze negli eventi, da quando si apprende da alcune dichiarazioni del sindaco, sono state 7.000 per il Castello Incantato, 5.000 per i mercatini e qualche altro migliaio per il concerto, con un totale di circa 15.000, quindi molto al di sotto dei 30.000 prospettati. Quindi, purtroppo, da questo punto di vista, le cose sono andate male. Il progetto Natale delle Meraviglie 2019, concludono i 5 Stelle, è il copia e incolla di quello dell'anno passato. Nessuno sforzo dal punto di vista della progettazione e dell'originalità. Ottimo suffruire dei finanziamenti regionali e europei per migliorare gli eventi in città, ma finiamola di raccontare le favole, Agropoli merita più rispetto.